Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, appuntamento settimanale dedicato alla sfida aggiornamento della domenica. Questa volta parliamo di sfida creazione rosa, eroe garantito, come guadagnare crediti, quali categorie andare ad acquistare. Ma prima fate un salto su fcmaglia.com perché ci sono due motivi importanti e non schippate, vi rubo 20 secondi. Sono arrivate le maglie edizione speciale del Giappone con Goku davanti, con i samurai, con i draghi, con One Piece, con Vegeta. Sono spettacolari ragazzi, spettacolari, bellissime. Nelle storie su Instagram ve le faccio vedere, sono veramente uno spettacolo. E usate il codice sconto Lucio, avete il 10% di sconto e per la promo Black Friday anticipata, se ordinate 69 euro di prodotti, scegliete due maglie omaggio e inserite nelle note dell'ordine tutti i link e le informazioni in descrizione. Allora ragazzi, la 10-15 giorni fa uscì la sfida creazione rosa eroe base garantito e questi erano i requisiti. Una rosa 85, una rosa 86 con un team of the week. I TOTV, dimenticatevi, non ci servono questa settimana, non serviranno, non saliranno di prezzo con la sfida hero e ci concentriamo sui fodder. Al 99% dovrebbero ripetere la medesima sfida, quindi sempre eroe base senza limite di hotball. Non credo che mettino già un pick, magari i player pick li vedremo forse da dicembre in poi secondo me. I requisiti indicativamente saranno gli stessi perché la sfida costerà 120-130 mila crediti, considerando il prezzo medio di 85-86 adesso, secondo me ci sta alla grande, anche perché sono passate due settimane quindi chiaramente le carte si deprezzano. Bene, cosa comprare e quando comprare? Allora, a seconda del budget che avete potete puntare dagli 84, agli 85, agli 86, agli 87 massimo. Quando comprare? Avete due barra tre, diciamo, possibilità per acquistare. La prima è sfruttare le aste questa sera, oggi è venerdì, stasera esce il nuovo team, la gente spacchetta, ci saranno un sacco di aste dove potete trovare occasioni, sotto prezzo facilmente. In alternativa potete comprare nella giornata di sabato, sempre via asta, in serata via sniping, sempre durante il rilascio di contenuti SBC, promo pack nuovi. Ultima piccola finestra di acquisto è domenica mattina al rilascio dei premi Battles. Se vi dovessi dire delle categorie che preferisco sono 85 e 86, che sono quelle che dieci giorni fa hanno avuto maggior rialzo, perché se guardassimo il prezzo di partenza era intorno ai 5-5,5, che più o meno è simile adesso, hanno raggiunto e superato i 7-8k tra lunedì e martedì dopo il rilascio Hero. Le 86 sono partite da un prezzo di circa 8.000-9.000 crediti e hanno raggiunto addirittura i 12-13.000 crediti. Non vedremo, a mio parere, lo stesso rialzo. Ci sarà un rialzo, ma sarà notevolmente minore, perché la sfida non è nuova, non è una novità e perché due settimane fa c'erano altri contesti e altre sfide contemporaneamente che davano un certo interno. Ciò non toglie che il nostro sfizio ce lo possiamo togliere. A quali prezzi acquistare? Chiaramente ai più bassi possibili, 84 sul range dei 2.000, 85 sul range dei 4,5, 86 sul range dei 7-7,5. 87 probabilmente arriveranno anche a 10k. Differenziate bene, relistate a un prezzo maggiorato e mi raccomando, vendete le card già nella tarda serata della domenica, dopo che si attiva la SBC, la gente inizia a completarla, magari sarà ripetibile, quindi nella stessa serata ci sarà una doppia, diciamo doppio acquisto perché ha voglia di completarla due volte e avrete dopo 2-3 ore dal rilascio della SBC prezzi rialzati. Ne sono praticamente convinto. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, in descrizione sempre il link al nostro Discord per accedere ai canali da abbonato, link in descrizione per fcmaglia.com e tutto quello che riguarda la promo, grazie per l'ascolto televisione, ci vediamo alla prossima, ciao!